Poracci, come va? Siamo ormai in piena estate e Nintendo Switch è la console perfetta per questa stagione, dato che la sua natura ibrida permette di giocare ovunque, anche sotto l'ombrellone. Purtroppo Nintendo non ha di certo esagerato con le uscite per questi mesi, e a parte Paper Mario in arrivo il prossimo venerdì, molti utenti rischiano di ritrovarsi a corto di giochi nella stagione più rilassante dell'anno. Ho pensato quindi di consigliarvi 5 giochi per Nintendo Switch ideali per passare il tempo nelle prossime settimane di vacanza, cercando ovviamente di spendere il meno possibile. Se la lista vi torna utile, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando le porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Partiamo dal gioco estivo per eccellenza, The Tourist. Si tratta di un platform in tre dimensioni con forti elementi da puzzle game, che ci vedrà interpretare un turista alla scoperta degli antichi segreti che si celano dietro ai monumenti simbolo delle isole che visiteremo. Sebbene non ci sia un overworld espanso e interconnesso, ma solo una serie di atolli separati tra di loro e raggiungibili attraverso viaggi in barca, la struttura di gioco mi ha ricordato tantissimo l'impostazione delle quest dei vecchi Zelda in due dimensioni. Non aspettatevi però un sistema di combattimento vero e proprio. The Tourist si focalizza esclusivamente sul risolvimento di puzzle ambientali e lo fa tremendamente bene. Lo stile grafico è ispirato e bellissimo. Forse è uno dei migliori esperimenti visti su Switch e va a braccetto con un umorismo veramente azzeccato. La longevità arriva intorno alle 10 ore e anche qualcosa in più se si decide di completare il gioco al 100%, durata perfetta per un titolo da divorare questa estate. Rimaniamo sempre in tema platform, ma questa volta passiamo ad un esperimento ben più classico con Yooka Laylee and Impossible Layer. Si tratta di un gioco fortemente ispirato all'epoca d'oro dei side-scroller in due dimensioni e il punto di riferimento sempre presente è chiaramente Donkey Kong Country. Il capolavoro di Rare, disponibile dal 15 luglio all'interno del catalogo Super Nintendo proposto agli abbonati al Nintendo Switch Online, rivive nelle nuove avventure del duo Yooka Laylee. Ed Impossible Layer è a tutti gli effetti una validissima alternativa anche a Donkey Kong Tropical Freeze. La particolarità del titolo è che tutti i livelli di stampo classico sono interconnessi tra di loro da un overworld con visuale dall'alto, complesso e intricato, ricco di segreti da scoprire, tanto da essere considerabile quasi un gioco nel gioco. Dopo un non proprio entusiasmante primo episodio, Impossible Layer è uno dei migliori platform disponibili su Switch e c'è anche una demo gratuita su eShop, che vi consiglio di provare a tutti i costi. Annunciata a sorpresa è uscito proprio in questi giorni Bloodstained. Curse of the Moon 2 è stata una piacevolissima rivelazione. Si tratta del secondo capitolo di una serie che si ispira ai Castlevania dell'epoca 8-bit del NES. Aspettatevi quindi un non un Metroidvania, ma un action-adventure molto più classico e lineare. Il gioco è composto da otto livelli e, come il suo predecessore, offre la possibilità di cambiare in qualsiasi momento il personaggio da controllare, con una squadra composta da quattro elementi ben distinti tra di loro, ognuno con le proprie caratteristiche fisiche ed abilità. Il gioco è estremamente difficile e punitivo, ma fortunatamente è possibile selezionare una modalità casual che abbasserà drasticamente il livello di sfida. Inoltre è stata introdotta una modalità multiplayer a due giocatori, che permetterà di affrontare l'avventura di Zangetsu, lo spadaccino errante, in locale con un proprio amico. Tra un'imprecazione e l'altra ci vorranno circa tre ore per completare gli otto livelli, ma a questo punto sbloccherete nuovi episodi da portare a termine. Si tratta sostanzialmente di dover riaffrontare gli stessi stage, ma sotto altre condizioni, il che aumenta di parecchio la longevità, se si tiene conto che in totale gli episodi sono cinque. Se siete alla ricerca di una bella sfida dal sapore old school, Course of the Moon 2 farà sicuramente al caso vostro. Ve ne ho parlato nell'ultimo video dell'uscita di luglio e confermo quanto detto. CrossCode è un titolo che mi sta sorprendendo tantissimo. Lo sto giocando tramite il Game Pass su Xbox One X, ma la versione Switch non dovrebbe presentare alcuna differenza di sorta. Questo action GDR mascherato da MMO mi ha colpito da subito per la fluidità dei controlli e per la dinamicità dell'azione. A differenza di ben più noti esponenti del genere, CrossCode non si perde in chiacchiere e getta da subito il giocatore al centro dell'azione, saltando la lentezza dei tutorial tipica dei JRPG che solitamente affossa il ritmo delle prime 10 ore di gameplay. Con una durata complessiva che si attesta intorno alle 30 ore, CrossCode potrebbe essere l'investimento perfetto per occuparsi tutta l'estate in attesa di un'offerta più concreta da parte di Nintendo. E per finire vi voglio consigliare Bug Fables, anche se ve ne parlerò meglio in un video dedicato giovedì. Si tratta di un JRPG palesemente ispirato a Paper Mario e in particolare al suo episodio più celebre, il Portale Millenario. Se siete perplessi dall'abbandono delle dinamiche ruolistiche all'interno della serie di Intelligent Systems, sappiate che probabilmente con Bug Fables potrete trovare il vero seguito di Paper Mario, molto più di quanto lo sarà di Origami King. In Bug Fables il mondo è fatto di carta, il gioco è diviso in capitoli, la narrazione è tremendamente autoironica, ma soprattutto i combattimenti a turno hanno un team di tre personaggi, statistiche di cui tener conto ed esperienza a fine battaglia. Ma come vi ho detto, ve ne parlerò a fondo in una mini recensione che troverete qui sul canale in concomitanza con l'uscita del vero Paper Mario. Proprio per questo, come al solito, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se siete nuovi, attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Poracci, io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere cosa vi porterete da giocare sotto l'ombrellone. Io sono il Poro Michele, estivo, ciao! Ciao! Grazie per la visione!